Siamo con Paolo Domè, General Manager di Dado Tecna, che si presenta qui a Tau Sicurezza con IMU e Johnson Controls. Esattamente, questa è la nostra prima avventura in questa fiera siciliana, la conosceniamo solo di nome, non ce l'ho mai stato, sono di buon auspicio, speriamo che porti dei frutti interessanti. Ci presentiamo con IMU, un brand che ormai da 4 anni abbiamo deciso di distribuire per il nostro territorio. Ci sono tante novità, il mercato è molto più spicciolo di quella che è la parte professionale a cui noi siamo abituati. Paralelamente a IMU, invece, siamo qui in un contesto di Johnson Controls, che è un'avventura che inizia un anno fa, o giù di lì. È un'azienda di spessore conosciuta nel nostro panorama e il brand che presentiamo nello specifico è Zettler, un marchio dedicato alla rivelazione incendio. Il prodotto di punta di questa fiera è un Evac, molto semplice nella sua installazione, sempre a brand Johnson Controls. Queste sono le principali novità che presentiamo qui a Tao Sicurezza. Tra l'altro con Johnson Controls voi potete vantare vari e interessanti case studies. Assolutamente sì, Johnson Controls è un brand, un marchio, una multinazionale che non ha bisogno di presentazioni, anzi, tutt'altro, oltretutto da pochissimo acquisito a nuovi marchi e quindi sempre più potente all'interno del mercato della sicurezza intesa a 360 gradi.